Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video! Io sono Efrem e questo è Garage19. Ho deciso di prendermi una piccolissima pausa dalla meccanica. Non vi preoccupate, veramente breve. Infatti in questo video, e solo per questo mese di agosto, andremo ad effettuare qualche lavoretto un po' diverso dal solito. Non tratteremo di meccanica sulle auto, moto e così via, ma di altro. Lo scoprirete alla fine del video. Ma non vi preoccupate, a settembre ritornerò a fare i soliti video di meccanica. Ad ogni modo, oggi parleremo di... ...questo componente qui. Si tratta di un componente elettronico chiamato Gella di Peltier. La sua funzione, le sue caratteristiche e le sue applicazioni, secondo me, sono da rimarcare. Scopriamoli insieme, ma prima di iniziare, come sempre, like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Una cella di Peltier come questa sostanzialmente sfrutta l'effetto, appunto, di Peltier. Ovvero, se noi abbiamo due metalli differenti posti a contatto tra di loro e a questi applichiamo una differenza di potenziale, quindi facciamo passare della corrente, noteremo che un'estremità diventerà più calda rispetto all'altra. E allora, l'effetto Peltier non è nient'altro che un effetto termoelettrico perché ad una differenza di potenziale, quindi parte elettrica, corrisponde una differenza di temperatura, una differenza termica. E allora, una cella di Peltier sostanzialmente si tratta, come vedete, è un componente veramente piccolo, si tratta di due lamine metalliche sottili poste parallelamente e al centro divisi da tanti semiconduttori, sia di tipo P che di tipo N, posti in un determinato modo. Ma non entriamo nel dettaglio. Quello che ci interessa a noi è appunto la grandiosità di questo componente che andando a creare una differenza di potenziale, quindi applicando della tensione ai due capi della nostra cella, noteremo che da un lato della cella si andrà a produrre calore ad una certa temperatura. Dall'altro, invece, dall'altro lato della cella, noteremo una temperatura molto più bassa e ovviamente questa differenza dipenderà da tanti fattori tra cui a che tensione alimentiamo la stessa e che componente avremo davanti. Ovviamente funziona anche nel modo inverso, ovvero se riscaldiamo da un lato e raffreddiamo dall'altro riusciamo ad ottenere una differenza di potenziale, una differenza di tensione e quindi riusciremo a produrre corrente. E la cosa sbalorditiva appunto è proprio questa che in un componente così piccolo andando ad applicare una giusta tensione riusciamo ad ottenere un ΔT, quindi una differenza di temperatura da un lato rispetto all'altro che è sostanziale perché si tratta anche di 60 gradi quindi ad esempio se da un lato abbiamo 60 gradi dall'altro abbiamo 0 gradi. Certo, ovviamente abbiamo sempre una limitazione ovvero quella più grande è cercare di contenere fino a una certa temperatura il lato più caldo perché se noi continuiamo per tanto tempo a fornire una tensione non è che il componente si bloccherà a 60 gradi ma continuerà ad andare oltre fino a bruciarsi. Quindi è chiaro che da solo non può funzionare bisogna andare ad utilizzare dei radiatorini dei dissipatori di calore in modo da contenere e controllare la parte calda. La cella di Peltier trova diverse applicazioni sia nell'ambito aerospaziale che a noi ci riguarda ma tanto e non quanto ad esempio è installata in alcuni satelliti che sfruttando il delta T la nostra differenza di temperatura riesce a generare della corrente ma nella vita nostra di tutti i giorni incontriamo la cella di Peltier ad esempio nei frigoriferi portatili quelli portatili che si mettono in camper o in auto vi siete mai chiesti come fanno a funzionare come fanno a refrigerare senza l'utilizzo di gas il comune gas dei frigoriferi di casa e allora sfruttano queste celle qui appunto per refrigerare. Ho ancora applicazione molto simile quella di andare a raffreddare i computer o altri apparecchi elettronici ma quello che riguarda me è perché vi ho parlato di queste celle come mai ho una cella qua di Peltier sostanzialmente sono andato a riparare un piccolo spillatore di birra domestico che a tal proposito vedrete nel prossimo video la sostituzione di questo componente e la manutenzione dello spillatore stesso ad ogni modo questa celletta qui è montata su questo spillatore e abbiamo da un lato lo vedrete meglio comunque nel prossimo video da un lato abbiamo un dissipatore di calore quindi la parte calda è collegata a un dissipatore di calore a sua volta collegato a una ventola che mantiene costante la parte calda dall'altro lato invece la parte fredda ovviamente è collegata una piastra d'acciaio a contatto con dell'acqua e dentro quest'acqua appunto abbiamo il nostro fustino di birra che è mantenuto a una certa temperatura grazie all'acqua raffreddata da un lato della nostra cella bene anche per oggi è tutto ti invito come sempre like se ti è piaciuto il video iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto perché verrà riconosciuto una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo ti ricordo infine che sono presente anche su instagram e tiktok passa a dare un'occhiata trovi sempre qui sotto il link ai profili grazie e alla prossima